Secondo l'emittente ABC, l'ex sovrano spagnolo Juan Carlos sarebbe ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Travolto dallo scandalo corruzione, è salito a bordo di un aereo privato ore prima dell'annuncio della Casa Real sulla sua decisione di lasciare il paese. L'aereo sarebbe decollato lunedì mattina dall'aeroporto di Vigo e Juan Carlos sarebbe arrivato in serata ad Abu Dhabi, dove alloggerebbe all'Emirates Palace, un hotel di lusso che lo aveva già ospitato in altre occasioni. La Grecia intende cambiare.